L'arrivo di Chiara Ferragni all'ospedale Fate bene fratelli è stato un momento carico di tensione e apprensione. Nel cuore della notte, sotto il manto oscuro del cielo, Chiara Ferragni si è presentata all'ospedale con un'anima ansiosa e un cuore pesante. La sua presenza aveva il potere di svelare il mistero che avvolgeva la condizione di suo marito, Federico Lucia, noto come Fedez. Mentre il mondo taceva nel silenzio inquietante delle tenebre, Chiara Ferragni è scesa con un passo incerto dal sinistro minivan nero, come se il destino stesso l'avesse condotta a questo drammatico crocevia. Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire tutto quello che è successo, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Chiara era accompagnata solo da una solitaria guardia del corpo. Il suo volto coperto da un berretto che nascondeva in parte il viso. Quel berretto sembrava simboleggiare la nebbia di incertezza che avvolgeva la situazione. Nell'ospedale, Fedez, lottava per la sua vita. Le ultime ore avevano portato solo un vuoto disperato di informazioni. Le voci che circolavano nel mondo virtuale erano scarse e incerte. Si diceva che Fedez fosse stato sottoposto a esami e controlli aggiuntivi, ma nessuno poteva dire con certezza cosa stesse accadendo. L'attesa era un'agonia, un'interminabile corsa contro il tempo. Le speranze e le paure si mescolavano nell'oscurità, mentre Chiara Ferragni si aggrappava a una busta contenente chissà quali segreti. Ogni passo verso l'innoto rappresentava un passo verso la verità, ma anche verso il potenziale abisso dell'incertezza. Mentre il mondo tiene il respiro, pregando per un esito positivo, resta solo la speranza che le condizioni di Fedez non si siano aggravate ulteriormente. La rete digitale pulsa di incertezza, ma, nel cuore di Chiara, brilla una luce di speranza. Spera che questi siano solo controlli di routine, che la sua presenza possa portare conforto e guarigione a suo marito. Ma solo il tempo rivelerà la vera portata del dramma che si stava svolgendo in quel luogo di angoscia e incertezza. Ti ringraziamo per averci seguito. Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video e a iscriverti al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.